Però fate I beccati di fronte, perchè se è in 3 contro 12, ti rompo i culo, almeno lo scopo è farne fuori 3, se non ha senso di farne fuori 3 non mi avete fatto un caldo. Allora, sono in pericolo e li faccio passare, tu quelli che possono. Piuttosto fatti saltare in aria. Ok, vi abbraccio tutti. Allora, allora, allora! io non ho capito bene qual è il nostro ruolo in questo momento sto riprendendo per l'apocalypse now 2 ma lo ricordavo diverso e mo? che cazzo ne sai io? qui è un po' fangoso però passare ci si passa ok Grazie a tutti. 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 Ci replichi le capriola? Erano solo in due! Non stavo filmando. E' colpa di tezzani! Eh! Ovvio! Cosa ho fatto? Dai raccogliamo due! Che io voglio... Sarà fatto! Dove c'è la nostra crocchia assassino? Luca fai una bella cosa! Vai avanti! No, non parla, non parla, non voglio lo fare! Così muore e va sulla strada... No, no, ferma, ferma! Ecco! Non avere timore, solo un picchio! Vai avanti! E' una cincia allegra! Ma ci stanno sparando! Ma ci stanno sparando! Ma ci stanno sparando! Che ti frega! Ma perché ci sparano? Perché ci odiano? Non lo so! Cos'è il bene? Cos'è il male? Ma la vera domanda è... Perché pagare per avere una carta di credito? Ma dove è? L'ho visto bene? Ah sì, ce l'ho visto! Non ci arriviamo! Cropo di avvertimento! C'è l'unica che è andata a sinistra giù! Il corso giù! Sì, sì, guarda, fa il giro! Fa il giro giù! Non ci hai visto? Beh, uno! Il corso giù! Buongiorno, come vediamo dove si andava! E noi facciamo un fuoco unito! Come? Riesci a copirmi? Se vado! Grazie. 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 Non c'è nessuno ai sacchi. Aspetta, sto a ricaricare. Sono sicuri qui, cazzo. Grazie. Prezzo! Va Prezzo! Oh! Basta, fine! Oh! Intervista post bellica. Cosa ne hai pensato di questa giocata? È stata bella, è stata emozionante. Si parla di qua? È stata bella e mi è piaciuta molto la parte iniziale, molto quella centrale e anche finale. Lo rifarei tanto e abbiamo perso.